Eccoci cari cari amici, buonasera ancora insieme. Allora, il titolo avete visto è forte. Allora sapete che abbiamo iniziato queste nostre trasmissioni con qualche mese fa, parecchi mesi fa, parlando dei bambini strappati in tutta Italia, ma non ce ne dobbiamo dimenticare. Bambini che spariscono perché le istituzioni le tolgono, i tribunali minori li tolgono alle proprie famiglie, vanno in casa famiglia, vanno in stato di adottabilità. Cioè sono bambini che a un certo punto perdono qualsiasi contatto con la propria famiglia d'origine. Ci sono un sacco di trucchi che sono stati scogitati, l'avete visto con tutti i processi che ci sono stati, che ci sono ancora, Bibiano e tante Bibiano d'Italia. Bene, noi dobbiamo sempre tenere altissima la nostra attenzione, perché possiamo pensare alla sofferenza di chiunque, ma non dei bambini. I bambini sono sacri, sono, devono essere sacri, devono rimanere sacri. Allora stasera vi voglio parlare innanzitutto della connessione tra bambini e coronavirus. Abbiamo già detto, i bambini sono stati tre mesi, tre mesi di arresti domiciliari, con le mamme eroine dentro la loro casa. Sono stati fantastici, pensate, senza poter correre nei parchi. Hanno avuto una connessione con queste nostre madri stupende, fantastiche, che hanno retto il colpo durante la mancanza dello Stato. Ma vi voglio parlare anche di alcuni casi che non conosciamo, che non vanno sui giornali, che la Barbara D'Urso non intervista, di cui nessuno parla, dei casi pazzeschi che accadono. Vogliamo parlare di un caso, possiamo parlare, siamo stati autorizzati dai genitori, che ci hanno mandato, ci hanno dato una procura per agire in sede penale anche. Un caso di una bambina e di una mamma. Vi facciamo vedere, abbiamo cancellato, guardate, vi facciamo vedere un documento pazzesco. Parliamo di Sicilia, parliamo di Palermo. Parliamo di Palermo, la capitale della cultura. Guardate cosa succede, una bambina o una mamma segregate per 60 giorni, una bambina sottoposta a 11 tamponi e ancora vogliono sottoporla a tamponi. Una bambina che è sempre stata bene, non ha mai avuto neanche un sintomo. Quindi al massimo, ma proprio al massimo, potrebbe essere una portatrice sana che non infetta nessuno, nessuno della sua famiglia si è infettato. Dopo 60 giorni lasciata alla libera questa bambina. O è un crimine, è un crimine, è una tortura. Ecco, guardate, guardate, questi sono gli esami, eccoli, guardate, decine e decine, guardate, decine e decine di esami in cui è stata sottoposta questa bambina. Noi ci vergogniamo per le istituzioni e nessuno è intervenuto, nessuno è intervenuto, un prefetto, di fronte a uno scandalo del genere. Ebbene, mamma, nonni, papà di questa bambina, domani interveremo con tutte le nostre forze, tutte le nostre forze, perché anche queste sono gravi violenze, anche queste sono gravi violenze e sono il vilipendio della nostra libertà, il vilipendio della nostra Costituzione, il vilipendio dei nostri sentimenti, della moralità, dell'etica. E questo non lo consentiamo, ma non lo consentiamo con la legge in mano. Da domani scateneremo una guerra giudiziaria, non per denaro, non per potere, per ripristinare uno Stato di diritto. E allora vi voglio parlare anche di altri casi, e lo faccio con più libertà, anche di altri casi. Ci sono mamme in questo momento che stanno portando battaglie in tribunale da sei, sette, otto anni per uno Stato di diritto. Alcune possono fare anche i nomi come Laura Massaro, per esempio. Ma è possibile, secondo voi, che un tribunale per sei, sette, otto anni tenga in piedi una causa e non consenta a una madre di avere la potestà genitoriale, non perché abbia mai commesso nessun reato, no, per screzi, per bilanciamenti, per CTU strane, per CTU che vengono revocate, riammesse, corte d'appello che annulla ordinanze, decreti, e si ricomincia da capo. Ecco, questo è il nostro Stato. Questo è il nostro Stato. Papà, come Fabrizio che non posso mettere la bambina, perché dall'altra parte c'è l'altro genitore che inventa ogni giorno una scusa, un certificato medico, un qualche altra cosa. Ecco, i diritti alla famiglia vengono vi ripesi tutti quanti i giorni e noi non dobbiamo dimenticare, in mezzo ci sono questi bambini che hanno diritto, diritto di vivere sereni, diritto di abbracciare chi vogliono loro, chi vogliono loro, non chi decide un consulente tecnico o uno psichiatra, chi vogliono loro. Nessuno li ascolta, vi garantisco, nessuno li ascolta. Altro che alienazioni parentali, inventiamo ormai metodi psichiatrici per riuscire a mischiare i sentimenti di questi bambini. ebbene, noi, voi, questa nostra grande famiglia che abbiamo creato, siamo attenti, non molliamo un attimo, siamo vigili, non lasciamo spazio all'ingiustizia. Insieme a voi vi raccontiamo quello che accade e ci opponiamo alla barbaria, ci opponiamo all'ingiustizia e vogliamo lo Stato di diritto. Anche per questi bambini, che sono troppo spesso dimenticati, perché non rappresentano voti, non rappresentano potere, non hanno l'ILVA in mano, ma sono i nostri figli, sono un pezzo della nostra vita e sono soprattutto il futuro di questa nazione che si sta disgregando. Allora vi voglio far vedere quello che accade anche nelle cose più blande, meno serie dei bambini, ma se è la nostra vita. Allora, guardate cosa dicono i giornali, l'Italia perde 31 milioni di turisti stranieri, 31 milioni, ma avete visto qualcuno che sta facendo qualche cosa di serio per riportare il turismo in Italia? Ma mentre noi stiamo giocando, insomma poi non facciamo politica, quindi non sappiamo cosa stanno facendo i nostri governanti, cosa fa la Germania? Eccola qui, la Germania ecco qui, fanno gli accordi con la Spagna per i flussi turistici e quindi scavalcano completamente l'Italia. Questo sta accadendo. Nessuno pensa al tessuto costruttivo di questo paese, al turismo, a tutto quello che porta danaro. Siamo ormai in una discesa irrecuperabile. E per ritornare ai bambini, ricordiamoci, ricordiamoci che qualcuno sta dicendo no ma tanto le mascherine poi non si metteranno, vedrete, ci sarà... Guardate, sta peggiorando la cosa, sta peggiorando, perché non solo, c'è quel famoso studio tecnico che stiamo impugnando al TAR, ricordatevelo, abbiamo qualche altro giorno, ma tanto non abbiamo, due giorni in più ci consentono di scrivere meglio, di avere ancora più film. Sta peggiorando, perché adesso non si pensa più neanche solo, solo alla mia scherina dei bambini. Guardate, ecco.